Si è bionda, castana, romana, smash, ma non sa cucinare carbone Come facciamo ad essere in questa situazione? Situazione abbastanza particolare, ma ve la spiego subito ragazzi Perché più tardi dovrà arrivare il fumo e poi dovremo raggiungere anche... Dai, dai c'è la luce davanti che mi dà fastidio Mamma mia, dai, dai Ma come fa Alexi? Scusate Ti fai l'intro, ti fai l'intro Mambo! Tutto bene, brother, scusami, sono in diretta, stavo un attimino castellando Mambo, mambo, si è formata la magna, mambo Fai serata stasera? Sì, sì, sono in giro Benzina Ah, ok, no E sei con MVDM? Benzina No, no, perché? Ah, ho sentito delle host parlare? No No, ok, ok, non so, non si parla così Tu che fai stasera? No, no, sono qui oggi, mi becco con Arti in live Poi dopo ce la cegliamo in giro, quindi magari sentiamoci Fai il tavolo Dai, dai, dai Fai il tavolo? Eh, adesso capiamo, adesso capiamo dove andare Comunque so che sono in giro, bello fresco Tutto Vitton, quindi vestiti bene, andiamo, spacchiamo tutto Sì, no, perché non c'erano soldi Però vogliamo facerà Però vogliamo facerà C'erano, 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 c'erano C'erano, 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 c'erano Dove, 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 dove? C'erano io i soldi, c'erano io i soldi Dove, dove ce l'hai? Dove ce l'hai? C'erano io i soldi? Ah, in cas... Ah, in tasca, in tasca Che pantalone? Come sei vestito, diciamo? Tagliato Louis Vuitton Colori? Rosso, grosso Ragazzi, se vedete uno... C'era in tasca Tu ti, tu, 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 tu. Stai attendo, stai facendo Stai così? Alexis, stai attendo, non stai lucendo Che se ti vedo... Guarda, la foto trappa, la foto trappa, la foto trappa, la foto trappa Vai, 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 che disperdi qua? Non ti succede mai più Tu succede mai più Ma... Mazza uno Vai Questa lo schimpe ne fa un po' di gigante Esci dai Ma santi che ti sta spiegando lo studio Stai sopra me un po' Eh fallo qua sotto Bene eh Ti raccomando Non troppo vicino Fallo bene Bene Ma non troppo vicino che cola Non troppo vicino esatto come dice lui Se no dopo non si legge Mamma questo manco le bombolette Che ha scritto? Il rosso Che scherzo Hai rovinato un muro Hai rovinato un muro Metti un puntino Ma che hai fatto? Si è scritto rosso Il virus Lei hai capito Guarda Questa è dentro della storia Fidatemi Questa vale tutto Ti da 100 euro e tanti No No Se vince niente Va bene Va bene Va bene Va bene Una Carto bim bum Sasso carta forbici Sasso carta forbici Sasso carta forbici Sasso carta forbici Mai guardando gli occhiali Ma tu sei più forte di noi eh Ma io lo vedo dagli occhiali Bim Bum 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 Eh Cicc 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 Scusa Eh Gli occhiali che vedi meglio Mi sento che hai fatto armo Da mezz'ora fa così Bum 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 Bro Sei in crisi nera Cacca Quindi mi ricordo Poi Sì Manca un euro Così manca un euro Ma non lo dico Non ce l'avevo No Davvero io non ce l'ho Tu a me me la vieni a chiedere Eh aspetta che Guarda Un euro Ti do 5 euro Un euro dopo Ti do un euro adesso Oh poverissimo No Niente Facciamo così Ma forse fuori di Dalla macchina c'è la macchina Dai Dai Vieni dalla macchina Sì, scaviamo, non ce l'ha scavato C'era un euro? Dai, dacci un euro Dacci un euro su adesso Dacci un euro Ah, è il tuo Noi volevamo salire, quando tu canti un club però, non un palazzetti Noi saliamo in pista, praticamente a un certo punto del tuo A metà della scarretta si ferma, noi passiamo col cappello Prendiamo i soldi e poi ce l'andiamo Il diabiglione Qual è che va a virare sul tino? No, no, ce l'ho io Oh, diventa uno sciogra moroso Arti Ti fidi Ma fidi Tu scrivi, perché? Dovrei prenderli nella coreografia Perché io so che tu sei una persona buona Perché dovrei Perché sei una persona buona, che fa del bene alle persone bisognose come noi Però, vabbè, voi avete già qualche cosa Cioè, se devo aiutare dei ragazzi nella coreografia, preferisco prendere qualcuno di te No, ma noi poi li restituiamo Ma noi li rediamo Se la metto ci inviti Mi invito, mi metto in seguito di spazio No, no, sei fatto Da dove? Da qui Da oltre la linea In una live Che torcoglio in live In una 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 live, poi veniamo in live Va bene In un tuo live, veniamo in live, facciamo doppio live Ma sei fatto Questo vale davvero Ma voi Lo dico io, te lo dice la chat Tu, adesso sei un popolo di parola, ci dice di sì si ma tu non scappare adesso tu ci hai promesso che se metteva la palla da qui tu ci portavi a un trovaio in console io non so io voglio una risposta si o no se avete notato no no dietro la telecamera guarda bene guarda quella telecamera guarda 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 bene guarda bene guarda bene ma dove c***o no non avete visto la sala di unione dai non di qua facciamogliere la sala di unione dai facciamogliere la sala di unione dai facciamogliere la sala di unione è qui dove le nascondete ma si sa adesso che passavano mi chiede a vedere è qua è la cosa che troviamo il nuovo stai dentro stai dentro vieni qua facci il colore ma sei dentro guarda sei libero ma scusa era finito il budget avete usato l'alluminio qua abbiamo preso il paio di alluminio ma non serve niente la colla ti schiacci contro che fa l'effetto ma sei aggressivo poi all'interno se serve qua lo bruci pure e poi questa te lo inseris quanto te la figli a farcela guidare? assolutamente zero questa è la nostra questa è la nostra mi piace perché non vi piatta anche una bella dose d'urango? se ci presti quanto costa? se non apre è stato così 60 con le minigonne e cose poi vabbè dipende non l'ho presa nuova perché in Italia non ne trovo 60k sono 60.000 volte i soldi che ho sul conto non hai speso un c***o comunque l'arte sincero vabbè vediamo la macchina no no è pulita no è pulita oh Ru eccoci qui eccoci qui pesante questa è spot si si sai quanto costa questa? calcato di piccione optional 5.000 euro in più no magari ce ne sono tanti girati allora girati giù faccio così guarda guarda in alto giusto per non rovinarmi la sorpresa aspetta wow che sei Luigi? dai dammelo dai tieni è mio? si si ma annusalo annusalo dai sai perché è così guarda? questa è profonda Arti se non puoi rispondere puoi anche non rispondere occhi ciò che fai brother ti dico falla ho paura di fartela occhio eh guardami negli occhi quanti anni hai? 24 ok è sbagliata è questa la domanda eh no tu lo sapevi? questa è no guarda una domanda a testa tu sai quanti anni ha? no e neanche io eh posso farlo io? no 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 domande vaste oh sul troppo eh vai 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 non c'ho l'inia no eh 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 ma devi farla fare qui ma hai tenito l'acqua è una fine piante che stai facendo? adesso sei simulata eh Arti vuoi provare tu? fai un bell'acqua nooo è un NPC di GTA bro vado bro vado bro se me lo dici così vado ciao Arti bellissimo qui eh ho il treppiedi oh ciao Arti c'è il treppiedi dentro posso entrare a prendere il treppiedi Arti? porto il rosso a prendere il treppiedi ahahah foto facciamo un tiktok Arti? no mai più ciao Arti ciao Arti aiuto ma vedi che io sono di Poggio Arti beh io sono di Milano figa eh ciao Broder e quando vuoi farmi sapere ci ci chiamiamo un dio se è bionda castana romana smash ma non sa cucinare carbonara pes